Buongiorno, buongiorno, come va? Come stai? Io sono Claudio e sono in ufficio. Questa mattina sto lavorando, sto scrivendo delle storie per Blu Blu, delle storie in italiano. E tu che cosa fai questa mattina? Come va? Come va? È freddo. Qui in Lituania oggi è un po' freddo, questa mattina sì, era un po' freddo, forse sono meno 5 gradi, quindi la primavera non è ancora arrivata.